17 febbraio 1963 nasce a brooklyn michael air jordan uno dei più conosciuti cestisti del mondo nel 1985 entra nei chicago bulls la squadra che anche grazie a lui dominerà la lega statunitense negli anni 90 in breve tempo jordan diventa il remida della palla canestro è un mito per tutti gli sportivi si ritira nel 2003 conclude la sua carriera con la più alta media punti per partita della storia dell'nba